Bella a tutti ragazzi Incominciamo questa missione al cimitero Ma chi è sta mano? Si può uccidere? Non credo Che sia contro di noi Ma attenzione è il nostro primo nemico La nostra prima uccisione Ecco gli altri due I nemici per ora sono deboli Però con l'andare avanti dei livelli Saranno più forti Però è anche vero che Anche le nostre armi Diventeranno più forti Quella piccola luce che ti segue è un fuoco fatuo Gli eroi del salone non dovrebbero intromettersi negli affari dei mortali Ma quando hanno saputo che Sir Daniel Fortescue ha avuto un'occasione per riscattarsi Beh hanno deciso di darti una mano con la tua scarsa percezione della profondità Il fuoco fatuo girerà attorno ai nemici Aiutandoti con la mira per gli attacchi a distanza Ma ti indicherà anche le cose da guardare più da vicino Ricarichiamo la vita Ragazzi abbiamo preso la runa della terra Adesso rimettiamola dove dovrebbe stare per aprirci il cancello Ma attenzione abbiamo qualche nemico contro di noi Abbiamo preso anche la runa del caos Adesso vi do un po' di tempo per leggere cosa ci sta scritto Ragazzi ma quanti sono? Cioè vedete quanti zombie? Cioè questi saremo noi quando non dovremmo più stare in quarantena Andiamo andiamo ragazzi Attenzione altri nemici però non è un problema Qui ci pensi a Sirdaner Fox Qui ci pensi a Sirdaner Fox Siamo dei diversamente vivi Non dobbiamo andare in acqua Ma andiamo al prossimo livello Anche nella tomba il vecchio nemico mi perseguita Se è arrivato troppo tardi Fortescue Il mio esercito è già resuscitato Non riuscirai ad uscire da questa necropoli Eccoci qua la collina del cimitero Alcuni ostacoli possono essere distrutti Distruggi il masso e sacchigge i tesori che si trovano all'interno Dovete sapere una cosa Da piccolo io odiavo questo livello E rieccoci al punto di partenza Ragazzi forse ce l'ho finalmente fatta E andiamo Abbiamo deluso il nostro padrone Sacrificeremo la nostra vita Ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto Mi raccomando lasciate tantissimi mi piace Per un prossimo episodio Iscrivetevi al canale Iscrivetevi al mio canale Instagram Iscrivetevi anche al mio canale sulla piattaforma Viola E mi raccomando attivate la campanella per non perdervi nessun video E bella